La lentezza sta avendo la meglio sulla velocità. Sembra un paradosso, ma è quello che sta accadendo al piano per lo sviluppo della banda ultralarga. In tutta Italia i lavori per dare una connessione internet più veloce e stabile sul territorio sono a rilento, ma è la Liguria a rappresentare la maglia nera. Qui l'avanzamento dei cantieri si attesta al 47%. Secondo Open Fiber, concessionario in Liguria per il piano della banda ultralarga, i problemi sono nati fin dall'inizio, con la partenza dei lavori a pieno regime solo a settembre 2019, per un ritardo del piano tecnico tra regione Liguria e Infratel, a cui si sono sommate altre criticità. Il primo è il processo di rilascio delle autorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli antiterzi, che in qualche modo si muovono con estrema lentezza e allo stesso tempo inseriscono nelle autorizzazioni delle prescrizioni relative alle modalità di scavo e alle modalità di ripristino, che sono in contrasto con la normativa vigente. Un altro aspetto che va in considerazione è sicuramente quello dei costi, che sono connessi alle condizioni aerografiche ed infrastrutturali del territorio Ligure. Un altro aspetto che sicuramente ci condiziona in modo particolare, in modo negativo, è la disponibilità di mano d'opera. I problemi non finiscono qui. Open Fiber ha come obbligo del bando la costruzione della rete d'accesso, ma non di quella di trasporto, che permetterebbe l'attivazione della connessione. Il compito di costruire la seconda infrastruttura e accendere la rete spetterebbe agli operatori telefonici, ma nella maggior parte dei casi la poca utenza delle aree interessate rendono gli investimenti poco appetibili. Così, nella Valle Sturla, troviamo un lungo elenco di comuni dove Open Fiber ha terminato i lavori, ma la rete rimane spenta. Un problema molto esteso, che la stessa società sta cercando di affrontare. Open Fiber interviene, laddove ci siano delle valutazioni, a seguito di valutazioni economiche che consentono l'affettibilità, interviene per realizzare questa ulteriore porzione di infrastruttura al fine di agevolare gli investimenti successivi degli operatori di telefonia. Per il futuro, la speranza è che lo sviluppo del piano della banda ultralarga si allinei alla velocità della fibra ottica. Di fatto, oggi noi traguardiamo lo stato dell'arte in completamento dei lavori entro il 2025. Dall'altra parte, Open Fiber sta promuovendo la necessità di una campagna informativa del completamento della rete e dell'attivazione della banda larga.